All'archivio di Stato di Torino fino al 30 aprile la mostra Il re e l'architetto, viaggio in una città perduta e ritrovata. Fogli botanici, le famiglie della flora d'Italia nell'erbario di Alfonso e Adastella nelle fotografie di Angelo Garoglio e visibile nella sala espositiva Ufficio Relazioni con il Pubblico fino al 10 aprile. Fino al 17 aprile alla Biblioteca della Regione la mostra Il Piemonte sul mare, dal Medioevo a oggi. La donna è immaginata, l'immagine della donna, mostra promossa dal Consiglio regionale della consulta femminile curata dal disegnatore Dino Aloi e esposta a Pinerolo nel Salone dei Cavalieri fino a domenica 7 aprile.